Ciao creatrici, anche oggi ho perlinato tantissimo e volevo farvi vedere le mie creazioni, sono due anelli. Questo è l'anello che ho fatto per la mia mamma, l'ho fatto con le perle di base 4 mm in vetro, rocaille 11.0 argento e svaroschi 3 mm color lilla. Per questo anello ho seguito il tutorial di Alessia Lux, mi consiglio di visitare il suo canale perché è molto brava, mi aveva colpito in particolare l'anello fiore che ha fatto, solo che non avevo i materiali disponibili come le perle mm 6 e i svaroschi bigono mm 4. Così ho fatto il fiore con una base di perle in vetro mm 4 e i svaroschi mm 3, questo è il risultato, questo è l'anello che ho fatto per mia mamma. Non so se si vede bene, e ora vi mostro il mio, io l'ho fatto sempre con la stessa base mm 4 e i svaroschi bigono AB 2x mm 3. Non si vede bene, però vi garantisco che è luminosissimo, anche se è piccolino perché non avevo le perle mm 6 e i bigono mm 4, però è sempre un bel fiore, piccolino ma carino. E ringrazio Alessia Lux per il suo tutorial, come vedete anch'io seguo i tutorial, non sempre perché non amo il copiato, però mi piace, mi faccio vedere anche la fascetta di Rokai, mi piace quando una cosa mi colpisce, mi piace seguire il tutorial come del bracciale di questo anello. Un'altra cosa, mi raccomando, commentatemi il video, le tutorial che volete che faccio, sia o del bracciale o dell'anello, che in modo che io quando ritorno posso creare il tutorial. Spero che i miei video non vi stancano, perché so che ne faccio molti, però finché ho questa possibilità che sono libera, mi piace poter condividere con voi le mie creazioni. Vi mando un bacio, a presto, ciao!